l'evasione di setola è l'evasione di setola è l'evasione di setola è l'evasione 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 Un'gifo! C'è un'gifo! C'è un'gifo! C'è un'gifo! Non dovete tornare! Non dovete venire, Darth. Se ti rende un'gifo, se ti rende un'gifo, se ti rende un'gifo più potente che ti potete pensare. La seconda ricetta, invece, è un po' più articolata e necessita di più prodotti. Abbiamo piadina, prosciutto crudo di Parma, trucola selvatica e fontina. Per iniziare mettiamo la piadina nella padella. La facciamo scaldare per due o tre minuti, facendola saltare. Una volta cotta, la posizioniamo. Ecco qua. Adagiamo la nostra fontina, successivamente, il prosciutto crudo di Parma. E poi, per dargli un trucco un po' più esotico, mettiamo qualche foglia di colpa selvatica. Finito così, chiudiamo la piatta e il piatto è pronto.